la compro il maschio qui questo scaveno è trovato una vecchia foto la ricordo è stata scadata dopo 4 anni del lavoro subito dopo Gordon ha rinunciato a posto non l'ha ancora annunciato come direttore del programma degli studi medici a Campich e scomparve è scappato strano uomo vediamo evacuazione no vediamo qui cosa dice quel meccanismo non si muoverà senza un ingranaggio quindi dovrò trovare un ingranaggio allora tirarlo fuori troppo non si vede nulla sembra che gli abitanti siano fuggiti in predalpanico qua qua o vado al passaggio o al laberinto andiamo al laberinto andiamo a trovare l'uomo allora qua abbiamo una rete fruga fruga tra le pietre sposta le pietre per trovare la pietra speciale e prenderla qui 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 allora ho capito bisogna azzeccare la strada quindi ci metteremo un po' e vai tornate all guarantee oah ritentiamo con l'abirinto Prima siamo andati qua, andiamo in mezzo, andiamo di qua, andiamo di qua, deve esserci una spiegazione, questi simulistici da qualche parte è sull'isola, siamo tornati qua, guarda mi pare ce ne siano, andiamo alla banchina, questo lucchetto non potrebbe essere appartenere anche con la giusta chiave, dovrò rimuoverlo, guarda un portafoglio, era lui che è caduto giù allora, anzi, e l'hanno buttato giù. Attenzione, evacuazione, l'ultimo traghetto è allo 18, qua c'è l'ingranaggio che mi servirà di sicuro questo posto a questo giorno è migliore, classica frase, pesci, pesci, via, i pesci, chiuso per sempre, e dovrò trovare la chiave. Abbiamo preso un pan, è così triste che l'ultimo porto della cosa dei mari sia la terra fede. Abbiamo un libro, il tempo va a continuare a peggiore, è troppo pericoloso qui, ho proprio una decisione, anche se è difficile, domani andiamo via, una volta per tutto, non possiamo aspettare nessun altro, spero che riusciremo a fuggire dalla sua ira, capitano Norman Cox, la rosa dei morti. Realmente oggi salviamo, tra qualche ora saremo lontana dal Cannon Road, un'isola di follia, ci dirigeremo verso il continente e non ci guardiamo indietro. sclerato, sclerato. Allora, conchiglia, ce ne servono tre. Una, due, e la terza viene da sé, salterà ancora. cucchiaio, irlanda, irlanda, lettera torre, perle e foto, la perla sarà, che vi faccio DWAR. puede ser un meccanismo, acciutto, non vede il blog, colocarla discichte, si doesn't like data. love, but not fast enough. Iorlanda con chi? Eh, faccio la foto Eh, dovremmo probabilmente togliere la pala Questa era una lettera? Una lettera da foto Torre Eccola Perle, Irlanda Ancora una conchiglia Queste sarebbero le perle ma non me le fa prendere Qua Qua Abbiamo preso la nave Perle e conchiglia Ok Ok Le perle Que te pare Quasi Quasi Tutto chiaro. Dovrebbero essere queste sicuramente. Sì, sì, sì. ecco le maracchone ben fatta, hai trovato un tassello e i tasselli andranno messi qua se serve un libro c'era un gran occhio però suppongo che qua abbiamo finito vediamo qua cosa dice troppo buio forse posso accendere quella lanterna quindi mi manca qualcosa non sembra ci sia peggio allora devo tirare fuori sto in granacce adesso torniamo indietro mettiamo non posso rimuovere questa catena perché non la posso rompere andiamo di qua andiamo di qua e siamo tornati qua Bacchia. Che bell'angelo, mi chiedo la cosa, mi chiedo la cosa abbia tratti a sprazzare lo scultore. Si fa complicato la cosa, come rompo sta catena? Oh, lindra la notte. Grazie a te, tu cercate la pietra, io ti aiuto a trovarlo. Non ce l'ho parlato. Preoccupato. Eh, me ne sono accorti. Allora, qui abbiamo la chiave. Guarda, guarda, questa è rosta. Ho dato la chiave e andiamo a aprire questa. No, allora apriamo questa. Entriamo. Ne abbiamo subito qui. Qui non si è indorsi. Manca un pulsante. Qua. Cerchiamo un pulsante. Va mancare qualcosa. Viene. Dopo il grande cataclismo, il proscierto porterà luce sulla terra. Un ragno. Un ragno. Ecco un altro pergamino. Potete essere un po' pezzetto. Ma comunque. un po' che sta fuori, Questo po' di liberi. Allora. Vieni la mano. Vieni, vieni. 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 Mi causò la mano bella. Attenzione. Ok, adesso abbiamo ucciso la luce. In teoria, sopra dovrei poter vedere. Lo fanno? No. Mi sento osservato. No, posso fare ne? C'è troppo rullo. No, posso fare ne? C'è troppo rullo. No, no. E' dei poteri che sono un'altra cosa. Sì, ho visto che è. Questo va così, sicuro. Uno, due, tre, quattro. Sì, questo va sicuramente. Questo. Eccolo. Mamma mia, sono un genio. Questo non ho capito. Che ci devo mettere qui? A parte che mancano due cose. Ci sono degli spazi vuoti per le lettere. Ci sono degli spazi vuoti per le lettere.